Tu trovi un portafogli con dei soldi e dei documenti di identità al suo interno. Ora ti ho sempre detto che se nel portafogli ci sono dei beni che consentono di individuare il proprietario con un documento di identità, una carta di credito eccetera, allora commetti un furto e non un'appropriazione di cose smarrite che peraltro non è neppure più reato. Per questo la signora di questo articolo è stata denunciata, però attenzione, la denuncia non basta, serve una querela, serve la volontà espressa da parte della proprietaria del portafogli di voler punire l'autore del reato perché la differenza tra denuncia e querela sta tutta lì, sta in quella dichiarazione espressa della volontà di punire. Se questa volontà non c'è, cioè se ti limiti soltanto a dire oh ho perso il portafogli con soldi e documenti senza aggiungere una formula come ad esempio voglio la punizione dei responsabili, lo Stato non potrà procedere contro chi se ne è appropriato. È il diritto penale. Che stè?